Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni parla di Roberto Speranza e dice ecco che cosa faremo quando saremo al governo, perché sappiamo che la gestione di Speranza con Conte della pandemia ha avuto diciamo parecchi problemi, sono intervenuti anche magistrati, hanno convocato Conte, Speranza, hanno chiesto delucidazioni su quella che era successo a Nembro, ad Alzano, ci sono stati parecchi problemi nella gestione di una pandemia senza un piano pandemico aggiornato, diversi problemi, solo che come voi ben sapete era un governo di sinistra. Immaginatevi se fosse stato un governo di destra o di centrodestra, oggi la situazione sarebbe molto diversa. Ma Giorgia Meloni parla proprio di Roberto Speranza, parla proprio anche della gestione delle procedure per il Covid, si parla di cure domiciliari, di un po' di tutto quello che è stato l'iter di questo Covid. La Meloni annuncia un provvedimento immediato che verrà preso una volta al governo, però immediato, subito, subito. Una delle prime cose che farà sarà di istituire una commissione di inchiesta sulla disastrosa gestione della pandemia. Quindi una commissione di inchiesta parlamentare che poi probabilmente potrebbe passare anche ai giudici. E così è arrivato il momento, dice Giorgia Meloni, della trasparenza. Dovrà ognuno assumersi le proprie responsabilità. Vuole vedere chiaro la Meloni e il suo partito e il centrodestra sulle scelte di speranza, se si possono considerare legittime o se sono state fatte in maniera illegittima o pretestuosa o chissà che cosa. Vi ricordate che Speranza raccontava in Parlamento una cosa ma la realtà era un'altra e molti lo avevano accusato praticamente di andare a mentire in Parlamento. E così vedremo quello che succederà con questa commissione di inchiesta che sarà una delle prime cose che verranno fatte. Su questo possiamo dire che come capo del centrodestra sarà una cosa che verrà fatta. Poi abbiamo visto nei video precedenti un po' Salvini e Berlusconi che ogni mattina ne dicono una senza consultare gli alleati. Questo sarà un bel problema. Intanto vediamo che la Meloni proprio ieri racconta se vinciamo le elezioni e Fratelli d'Italia è il primo partito io mi indico da sola come candidato premier e Mattarella non può far altro che accettare. Lei fa capire, non so come può non accettare la mia candidatura a premier. e per quanto riguarda invece il gas, il piano del governo contro i rincari dovrebbe essere di almeno 20 miliardi 20 miliardi che l'Italia non ha, niente, zero. Tutto quello che c'era è stato speso per il decreto legge aiuti e aiuti bis. Quei soldi in più, senza fare debito, derivano dall'aumento dell'inflazione che ha portato più soldi nelle casse dello Stato più soldi proprio per l'aumento delle tasse in proporzione ma i prezzi ad Amsterdam del gas sono in aumento nella giornata aveva toccato il record storico di 341 euro al megawatt ora poi ha chiuso 339 questo potrebbe portare a un incremento impressionante dei prezzi del gas in Italia a questo punto si parla di 20 miliardi che realmente poi non ci sono intanto mentre si parla di gas Berlusconi parla di riforma della giustizia Berlusconi non è che ha problemi di gas o di luce Berlusconi ormai vive nel suo mondo ovviamente uno degli uomini più ricchi d'Italia vive nel suo mondo e nel suo mondo si pensa solo della riforma della giustizia sapete che dopo 30 anni di scontro tra lui e i magistrati lui sta pensando alla riforma della giustizia non sta pensando al gas, all'elettricità ma alla riforma della giustizia e dice che deve essere realizzata nell'interesse di tutti i cittadini credo che i cittadini oggi non abbiano nessuna preoccupazione sulla riforma della giustizia ma stiano pensando a ben altre cose intanto Meloni aggiunge che gli italiani hanno diritto di eleggere il capo dello Stato pronti a ridare forza alla volontà popolare l'attuale sistema ci ha portato ad avere 11 governi in 20 anni gli italiani hanno diritto di eleggere il capo dello Stato e scegliere da chi si fa governare basta con governi calati dall'alto ai giochi di palazzo questo è il presidenzialismo mentre Di Maio dice Giorgio Meloni mi offende perché dico la verità sulle vostre amicizie internazionali beh insomma che Berlusconi era amico di Putin che Salvini faceva il cheerleader di Putin con le immaginette e le magliette che tutti sono con Orban eccetera eccetera con le penne insomma le amicizie internazionali dei leader del centro-destra sono quelle ecco e Di Maio dice che quelle amicizie non vanno bene ecco e Di Maio attacca sulle amicizie internazionali e su il programma del centro-destra che secondo lui è troppo alto non ci sono i soldi però di questo ne parliamo ne parliamo in un altro video dedicato lui dice io a Meloni non ti ho mai attaccato sul personale non ho mai fatto una questione ideologica perché le tue amicizie del passato quelle del ventennio che si riferiscono al ventennio si commentano da sole ma soprattutto sono ancora più preoccupato per il destino economico del paese per esempio se decidi di rinegoziare il PNRR rischiamo di perdere i soldi che ci servono per le sfide in realtà rinegoziare il PNRR è una clausola del PNRR dice se cambia il contesto internazionale si può rinegoziare quindi rinegoziare perché vorrebbe dire perdere i soldi non c'entra nulla non c'entra nulla e poi quali sono queste amicizie del passato di Giorgio Meloni a cosa ti riferisci devi dire nomi e cognomi grazie a tutti e arrivederci